Allora, rieccoci qua, riprendiamo il tema sulle liste. Nella prima ora di oggi vorrei fare un pochino di, diciamo così, riprendere alcuni temi e fare un paio di esercizi, un paio di esempi che sono proposti sulle slide. Nella seconda ora invece vorrei introdurre il passo successivo rispetto alle liste, che è quello delle tabelle, ossia le liste multidimensionali. Allora, questo elenco di algoritmi comuni con le liste in parte l'avevamo già visto la volta scorsa, però in alcuni punti l'avevamo saltato per andare a approfondire il tema delle liste delle tabelle, delle liste delle funzioni, a cui dovremmo ancora dare un po' di attenzione, fare ancora un po' di esercizi su questi, per riuscire a capire bene il meccanismo di passaggio di parametri degli alias e cose di questo genere. Ma su questo elenco di algoritmi volevo soffermarmi su un paio di punti che possono tornare utili, non c'è nulla di particolarmente complesso, ma solamente per ricordarci quelle che sono le funzioni primitive e poi anche i costrutti, cioè quelli più semplici e più frequenti da utilizzare con le liste. Per rinfrescare la memoria rispetto alla settimana scorsa, ricordiamoci che append è il metodo principale per poter aggiungere elementi a una lista, quindi le liste molto spesso se le stiamo creando dinamicamente le creiamo vuote e poi via via aggiungiamo elementi, in questo caso vengono aggiunti i quadratili, i numeri interi, ma questo è un dettaglio. E poi per scorrere una lista, per conoscere i valori contenuti all'interno di questa lista, quindi scorrere i vari elementi, usiamo normalmente un ciclo for che va a pescare, sa così, ogni singolo elemento all'interno di una lista. Poi in questa slide viene semplicemente raccontato come questi elementi possono essere sommati se fossero numero, se fossero stringhe per ottenere il valore totale. Abbiamo visto la volta scorsa, ce lo ricordiamo, le complicazioni che possono nascere dall'avere degli elementi più elementi contenuti all'interno di una stringa e volerli separare negli elementi costitutivi, oppure viceversa avere tanti elementi in una lista e volerli impaccare in un'unica stringa, magari a scopo di visualizzazione o cose di questo genere. Questo si può fare, diciamo così, normalmente col codice, e quindi se io avessi una lista di nomi e volessi costruire una stringa in cui questi nomi sono separati da virgola, lo posso fare, diciamo così, normalmente con un ciclo for, con un controllo, ad esempio in questo caso dice se l'elemento non è il primo, allora aggiungi l'elemento seguito da una virgola, cioè aggiungi una virgola all'elemento, alla stringa che avevi finora, e poi in ogni caso aggiungi il nome, quindi cosa succede? Succede che io parto con il risultato come stringa vuota, alla prima iterazione, quando i vale 0, questa istruzione non viene eseguita, ma viene eseguita questa sotto. Il risultato è che viene preso il primo nome, in questo caso Marco, e viene concatenato con un risultato che al momento è una stringa vuota. Quindi alla prima iterazione avremo un risultato uguale la stringa Marco. Seconda iterazione, i uguale 1, con i uguale 1 questo i maggiore 0 diventa vero e quindi viene eseguito anche questa istruzione. Quindi a valle dell'esecuzione di questa istruzione avremo Marco virgola spazio, perché a risultato, che prima valeva Marco, ho aggiunto questa virgola spazio. e poi aggiungerò il nome di 1, quindi aggiungerò Paolo. Quindi questo ciclo praticamente ogni volta aggiunge alla stringa precedente la virgola e il nome successivo, tranne per il primo elemento che ovviamente va aggiunto così com'è senza mettergli davanti una virgola. Quindi non abbiamo nulla di nuovo, abbiamo semplicemente ragionato su ciò che ci serviva e ci siamo costruiti un ciclo mettendo insieme i cicli condizionali per ottenere il risultato che ci serviva. Questo è un altro modo, ma ce ne sono altri probabilmente 40 modi. In questo caso non ho il test se i è maggiore di 0 perché il caso i uguale 0 lo faccio fuori dal ciclo e infatti il range qua parte da 1 anziché partire da 0. Quindi separo fuori dal ciclo il caso particolare di uguale 0 e poi dentro il ciclo faccio tutti gli altri casi. E poi come dicevo ci sono molti altri metodi. L'unica differenza è che il metodo qua a destra presuppone che names di 0 esista. Quindi casi particolari. Cosa succede se la lista è vuota, contiene 0 elementi? Nel caso di sinistra se la lista contiene 0 elementi il risultato è e rimarrà la stringa vuota. Quindi questa print stamperà una riga vuota. Se invece sono nel caso di destra e la stringa per caso contenesse 0 elementi allora questo qua è un errore. Qui avremo un errore di index.autoband.exception. Se invece la lista conteresse un elemento, un nome solo, cosa succede? Funziona bene perché se contiene un nome solo, parte della stringa vuota, il primo nome non aggiunge la virgola, aggiunge il nome stesso che è il primo e unico e lo stampa. Anche a destra, risalto uguale, names di 0 prenderebbe il primo nome e a questo punto la lunghezza di names varrebbe 1, un range da 1 a 1 è un range vuoto. perché i assumerebbe i valori tra uno compreso e uno escluso e quindi non c'è nessun valore valido quindi questo for non verrebbe eseguito manca una volta il corpo del ciclo non verrebbe mai eseguito e quindi il risultato sarebbe names di 0. quindi in questo caso anche con un elemento solo funziona correttamente in entrambi i casi con 0 elementi il caso di sinistra funziona, il caso di destra no e quindi bisognerebbe metterci una if davanti per verificare che il result sia che names usate contenga almeno un elemento. questo modo di affrontare i problemi dal basso funziona sempre qualunque sia il vostro problema ragioniamo su che cosa dobbiamo fare prendiamo i pezzi e mettiamoli insieme usando cicli, usando condizionali, usando range e andando a prendere gli elementi della matrice. e questo è un altro esempio in cui il separatore è la barra ma funziona esattamente nel stesso modo facendo tante print anziché creare una stringa e poi stamparla. Questi metodi funzionano sempre e abituiamoci a ragionarci sempre poi ci sono dei casi particolari in cui la soluzione è già pronta come in questo caso Jacopo mi chiede ma è possibile che non ci sia un modo già pronto per fare questa operazione? sì c'è, in Python c'è e si chiama join l'avevamo visto brevemente la volta scorsa è un metodo in cui gli passo un separatore come sottoforma di stringa punto join e una lista che contiene gli elementi da unire e quindi questa unica chiamata questo risalto uguale virgola punto join è una sintesi un po' strana perché normalmente i metodi col punto li vediamo appiccicati a una variabile a punto append lista punto append eccetera qui sul lato sinistro ci potrebbe benissimo che sia una variabile di tipo stringa tante volte c'è una costante però sempre una stringa è comunque è una stringa sembra un po' strano solamente le prime volte che lo si vede e ottiene esattamente lo stesso risultato prende gli elementi di questa lista e li unisce mettendo tra un elemento e quello successivo e la virgola quindi non lo mette prima del primo la virgola non la mette dopo l'ultimo lo mette solamente inframmezzando gli elementi che esistono Giulia mi chiede se join si può usare se gli elementi sono numeri leggiamo la definizione risituisce una stringa che è la concatenazione delle stringhe presenti nell'oggetto iterabile iterabile può essere una lista può essere una tupla può essere vari tipi di elementi quindi ci dice che concatena le stringhe viene eseguito viene generato un errore tipo type error se ci sono valori non di tipo stringa non iterabile quindi non si può usare per risponderti se gli elementi della lista fossero numeri bisognerebbe prima di tutto creare una lista diciamo così di supporto in cui i numeri vengono convertiti in stringa e poi si fa la join degli stessi in questo caso dovremmo fare diciamo così se tu avessi una lista di numeri A uguale che ne so 1, 3, 7 non puoi applicarla come parametro della join dovresti fare che ne so una nuova stringa AS cioè A sotto forma di stringa in cui for X in A per tutti gli elementi di A cosa faccio? prendo AS punto append di che cosa? STR di X e a questo punto posso fare virgola punto join di AS se vogliamo possiamo anche guardare come codice ma l'idea è io ho una lista di numeri A devo costruire invece una lista di stringhe devo costruire una lista di stringhe e quindi costruire una lista vuota e a cui aggiungo AS punto append tutti i valori che c'erano in A quindi for X in A tutte le X per contenuti in A ma le aggiungo non così come sono ma aggiungo la stringa che ottengo convertendo X in questo caso AS sarà una lista di stringhe che contengono la rappresentazione sotto forma di stringa dei numeri che c'erano prima nella lista A e questo lo posso a questo punto usare con join si può modificare i valori della lista senza creare una nuova? no, non si può o meglio si scusate si potrebbe ma perderei quella vecchia io potrei fare un'altra operazione fatemela scrivere qui a destra potrei scrivere o qualcosa del tipo A uguale scusate ADI uguale STR di ADI ok quindi potrei per ogni elemento I chiaramente lo metto ho detto un ciclo for I in range lunghezza della lista sostituire a ciascun elemento ADI una stringa ottenuta però lo posso fare li sostituisco sul posto ho il difetto che perdo la lista di partenza quindi la lista con i numeri a questo punto non ce l'ho più può piacermi può non piacermi magari mi serve ancora la lista con i numeri dentro perché ci devo fare le operazioni aritmetiche quindi solamente per lo scopo di stamparla non vale la pena diciamo così di perdere i dati numerici però tecnicamente posso farlo Antonio ci scrive una 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 sintassi che noi abbiamo deciso che è molto utile si chiama comprehension che è di fatto una sintassi che permette di condensare un intero ciclo fuori in un'unica istruzione ok quindi ciò che sto facendo io qui in questo blocco di istruzioni fino alla join esclusa si può anche scrivere così no come dice Antonio giustamente str di x uso la stessa variabile che ho usato prima for x in a questa è una scorciatoia è una scorciatoia che come vedete ha i pezzi del for cioè di fatto c'è il for x in a ce l'ho qui è uguale a quello che avrei qua qui ho gli elementi che aggiungo via via e qui ho delle parentesi quadre che mi ricordano che sto creando una lista quindi si chiama in questo caso list comprehension in python la cercate così comprehension dal punto di vista sintattico è molto compatta dal punto di vista del significato non aggiunge nulla rispetto al ciclo for ok quindi noi abbiamo scelto in questo corso di non approfondire anche questo tipo di sintassi ma se la volete usare tranquillamente si può fare per quanto riguarda invece le domande di di Andrea allora Sebastiano ci chiede se va bene per qualsiasi ciclo non solo con le liste le comprehension servono per creare strutture dati quindi creare liste creare duple creare dizionari eccetera eccetera crea un oggetto crea una lista solo per fare un for normale non serve quindi funziona con liste duple dizionari e insiemi in tutte le strutture dati complesse e ti evitano semplicemente il ciclo per creare Andrea invece mi chiede se la chiamo B non lo perdo e allora io immagino che si riferisse a questo esempio che avevo fatto qui e dicesse perché non mi sta scrivendo più se io scrivessi B di in questo punto qua è questo che stavi chiedendo Andrea se questo non funziona purtroppo perché dipende come ho inizializzato B perché B se una lista se inizializzassi la lista B come B uguale lista vuota poi non posso metterci qualche cosa nella posizione I perché la posizione I non esiste non esiste ancora se B è uguale una lista vuota iniziale dovrei posso sovrascrivere solamente gli elementi che già esistono per creare aggiungere nuovi elementi devo per forza usare append per questo qua ho usato append e non AS di allora dovrei creare una lista B perché questo funzioni dovrei creare una lista B perché abbia esattamente tanti elementi quanti ne aveva A che ne so potrei usare B uguale a lista di A cioè mi faccio una copia della lista A e poi la modifico quindi la lista a questo punto se facessi iniziarsi B in questo modo questa questa forma funzionerebbe perché la lista B ha i 6 che in questo caso questi tre elementi 1 3 7 e poi li vado a modificare li inizializzo con dei numeri poi li vado sovrascrivere con delle stringhe li sostituisco con delle stringhe ma ovviamente la lista A non l'ho toccata in questo caso ok quindi lo posso fare però la sintassi attenzione assegnare un valore in una lista si può fare solo se quella posizione c'è già se invece quella posizione non c'è già e la devo creare devo usare un append perché append fa uno spazio in più mentre invece l'assegnazione semplicemente usa uno spazio che già c'era questi sono se vogliamo elementi di base che poi si combinano in mille modi diversi per questo vale la pena riflettere farsi delle domande e vedere cosa succederebbe se facessi questo perché poi al momento del bisogno analizza una stringa converti i suoi elementi con catena li aggiungi ricerca eccetera sono le operazioni di base con cui diciamo così andiamo avanti la volta scorsa avevamo anche visto l'operazione inversa rispetto alla join che viene chiamata split che è l'operazione che invece prende una stringa che contiene dei dati con un separatore diciamo così elencati con un separatore e crea in uscita una lista in cui i singoli dati sono separati o memorizzati come singoli elementi staccati ok quindi l'operazione è esattamente inversa rispetto alla join questa operazione funziona anche qua con le stringhe di nuovo per anticipare la domanda che qualcuno mi ha fatto prima dice che in ingresso dovessi una stringa e restituisce una lista di stringhe una lista delle parole che sono ovviamente sotto forma di stringhe quindi se anche inizialmente come questo esempio qua vedete che conteneva un due tre ma questo un due tre non è un uno numerico bensì una stringa che contiene carattere uno quindi lavora puramente a livello di stringa e semplicemente taglia questa stringa ogni volta che incontra la stringa separatrice il separatore in questo caso separatore è un singolo carattere in questo caso la virgola quindi questo è molto utile quando diamo a leggere dei dati che contengono già diciamo così più valori separati o da virgola o da spazio e li vogliamo separare in una lista che contenga i singoli valori uno per uno se per caso c'è che il separatore compare più volte come ad esempio qua che sono due virgole ovviamente tra la prima e la seconda virgola di questa coppietta di questa doppietta di virgole non c'è nulla e questo viene creato come un elemento elemento vuoto poi c'è un caso particolare un caso particolare che la volta scorsa non abbiamo visto e quindi lo leggiamo qua se per caso il separatore non è specificato quindi uso split senza nulla senza avere un parametro cosa fa lui? lui si comporta in modo diverso lui ipotizza che il separatore sia questa frase strana runs of consecutive white space cioè sequenze di spazi consecutivi lui parla di white space e non solamente di space perché anche il tab viene considerato come spazio bianco anche se non è il carattere spazio quindi in questo caso cosa succede? che split la chiamata del metodo split se non specifico un argomento considera in automatico lo spazio come separatore e in più come caso particolare eventuali spazi multipli consecutivi vengono trattati come un separatore unico quindi se io faccio a spazio b ho elemento a elemento b ma se faccio a spazio 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 b avrei comunque a e b e gli spazi multipli vengono collassati considerati come se fossero uno solo cosa che invece non accade col separatore esplicito come abbiamo visto prima che se metto due virgole non viene trattata come una virgola sola ma viene preso un elemento in mezzo quindi questo può essere utile questo split senza parametro quando io ho una riga di testo e voglio estrarre le singole parole all'interno della riga e non mi interessa se ci sono dei sei spazi se ne sono uno due tre o quattro tra una parola e la parola successiva mentre invece con separatori diversi chiaramente gli spazi contano quindi questa è l'operazione inversa della join join e split fanno due operazioni inverse ricordiamoci che se io ho una stringa oppure una lista l'operazione di split mi divide una stringa secondo un certo carattere separatore in una lista mentre invece l'operazione di join fa il contrario mi unisce gli elementi di una lista in un'unica stringa ovviamente tutto questo funziona solamente se gli elementi della lista sono stringhe altrimenti non ha senso qui c'è l'esempio dello split senza argomenti dove questa frase della poesia è stata separata nelle singole parole costituenti adottando una definizione di parole un po' generosa perché ad esempio questo simbolo di punteggiatura questa virgola è stata considerata come se fosse parte della parola non è che sia intelligente split lui divide dove trova gli spazi poi se c'è un simbolo di punteggiatura lo tratta come se fosse una lettera qualunque se non ci piace se volessimo eliminare la virgola ebbè allora saremo noi che dovremmo poi intervenire a posteriori andando a rimuovere tutte quelle che sono le punteggiature o i caratteri che non vogliamo con dei replace ad esempio dalle stringhe che abbiamo ottenuto quindi come sempre questi sono ingredienti non sono la ricetta finita è il singolo passaggio lo split ci fa un'operazione non è detto che sia esattamente ciò che ci serve questi altri esempi che sono qui sono semplicemente per introduci il calcolo del massimo al minimo già lo conosciamo l'avevamo fatto leggendo dei numeri da tastiera lo possiamo fare ovviamente anche leggendo dei numeri all'interno di una lista qui ci fa solito inizializzazione della variabile al primo elemento e quindi poi analizza l'array la lista dal secondo elemento in avanti che è uno dei tanti modi l'ho riportata per ricordarci che anche qua lo possiamo fare con i metodi che già conosciamo faccio un ciclo faccio un confronto tra il singolo elemento e il massimo che ho visto finora eccetera eccetera questo algoritmo è dalla prima lezione che lo facciamo ci giochiamo non l'abbiamo fatto come diagramma di flusso le prime volte quindi lo possiamo benissimo costruire così oppure possiamo usare la funzione di libreria max che applicata una lista di numeri calcola il massimo o il valore massimo oppure il min per calcolare il valore minimo di quella lista di numeri quindi perché dobbiamo imparare l'algoritmo e essere sicuri di riuscire a farlo ma perché magari a volte la funzione max non faccio che vogliamo se qualcuno mi chiedesse trovami il massimo tra i valori pari o i valori dispari e beh il max non mi fa questo dovrò andare a prendere questo algoritmo farmelo a mano modificando un pochino il funzionamento dell'algoritmo quindi è sempre importante riuscire a ricostruirlo da zero max forse funziona anche con le stringhe penso di sì sì perché basta funziona con qualunque elemento sia in grado di confrontare quindi funziona devono essere o tutti i numeri o tutte stringhe oppure l'altra operazione molto frequente è la ricerca di un elemento allora la ricerca di un elemento in una lista si può fare con l'index se io so esattamente quello elemento e mi dà l'indice della posizione in cui si trova quell'elemento ma molto spesso la ricerca è qualcosa di un po' più generale cioè mi serve ad esempio qua mi dice un numero maggiore di 100 compreso nella 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 lista mi sono un attimo fermato perché c'è una domanda di Alida che qui vorrei tornare indietro a rispondere un value di zero è il valore iniziale di Largest Alida mi dice ma perché metti che il più grande è l'elemento zero non è detto che sia lui il massimo no infatti non è detto che sia lui il massimo e proprio per questo questo ciclo va a confrontare questo massimo con tutti gli altri elementi della lista quindi ogni volta io parto da un'ipotesi in questi cicli qui lo vediamo anche dopo negli altri esempietti ne ricordiamo c'erano sempre io parto da un'ipotesi iniziale se ho visto solo il primo elemento quello per me è il massimo e quindi me lo scrivo secondo me tu sei il massimo poi quando vedrò anche il secondo elemento mi chiederò allora caro secondo elemento sei tu il massimo oppure continuo a essere lui e quindi questa ipotesi che avevo fatto ipotesi di lavoro di comodo il massimo è il primo elemento la vado a rivedere riconsiderare ogni volta che trovo un nuovo elemento e se ne trovo uno che è più grande del massimo lo vado a aggiornare aggiornare ipotesi mica sono scemo che dico ho fatto una prima ipotesi poi quando mi accorgo che è falsa la mantengo quando mi accorgo che l'ipotesi che avevo fatto è una falsa la aggiorno e la sostituisco con un'altra che è più vera ogni volta che si calcola un valore nel ciclo è sempre così anche quando facevamo adesso qui non c'è la sum la somma forse anche quando faccio una somma e inizializzo somma uguale a zero non vuol dire che la somma è zero vuol dire che prima di aver visto i vari elementi il valore iniziale di questa somma è zero se poi non ci sarà nessun elemento il valore rimane zero se ci saranno elementi questo lo aggiornerò via via ad ogni iterazione e quindi aggiorno un valore che calcolo man mano che procede l'iterazione man mano che esploro questo array questo valore può essere un valore numerico come un massimo un minimo una somma oppure può essere un valore booleano ad esempio se io devo fare una ricerca alla fine l'output della ricerca che cosa mi può dire può dire io sto cercando qualcosa allora la risposta è c'è o non c'è e poi dove dimmi se c'è o non c'è e se c'è dimmi dov'è quindi queste sono le informazioni che devo ottenere alla fine di una ricerca con un criterio ovviamente di ricerca che in questo caso è i numeri maggiori di 100 anzi il primo numero maggiore di 100 non mi interessano gli altri dov'è il primo numero maggiore di 100 allora in questo caso il sì no cioè l'ho trovato o non l'ho trovato e gli ho rappresentato in questo caso una variabile booleana allora anche qua qual è il valore iniziale di questa variabile booleana che mi dice se ho trovato l'elemento e beh prima di aver visto gli elementi io l'unica cosa che posso dire è che secondo me non c'è cioè non posso dimostrarti che ci sia e quindi il valore iniziale sarà falso non c'è non l'ho trovato poi andiamo a vedere gli elementi uno dopo l'altro questo è il tipico ciclo l'ha chiamato pose anziché i ma vedete che è il tipico ciclo i uguale 0 while i minore di lang quindi analizza i vari elementi della 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 lista in questo caso ok e per i singoli elementi values di pose se è maggiore del limite quindi questo maggiore di limit è questo maggiore di 100 è la condizione vado a prendere gli elementi uno per uno mi chiedo senti tu sei un elemento che soddisfa la condizione sì o no se sì aggiorno l'ipotesi ah io pensavo che non ci fosse un numero ma adesso ne ho visto uno ce l'ho in mano e quindi aggiorno l'ipotesi non è più non trovato ma diventa trovato sì sì l'ho trovato quindi questo è diciamo un esempio no di uso di una variable found che chiaramente è un flag booleano che mi dice se una certa cosa è stata trovata o no se una certa condizione è stata verificata oppure no e poi vado avanti e poi vado avanti se per caso non trovassi il limite incremento pose perché sono dentro un ciclo while e quindi devo incrementare passare alla posizione successiva della lista fino a quando non trovo la fine della lista stessa in più ho questa clausola and not found che fa sì che il ciclo venga interrotto non appena il primo elemento viene trovato non appena il primo elemento maggiore di 100 che soddisfa il criterio viene trovato non è il caso non mi interessa più andare a vedere gli altri perché mi hanno chiesto ce n'è uno? sì dammi il primo dov'è? dov'è? è in questa posizione qua pose quindi il valore di pose che rende vera questa disuguaglianza è il risultato che mi interessa infatti mi dice che l'ho trovato nella posizione pose esattamente ok? anche qua quando faccio una ricerca quasi sempre mi baso su su un flag che faccia certe operazioni che faccia certi controlli voglio farvi vedere un codice leggermente modificato rispetto a questo e poi chiedervi secondo voi cosa c'è di sbagliato perché è un errore che si vede molto frequentemente noi avevamo fatemi sbagliato new file python file fermiamo l'errore perché è una cosa sbagliata io scrivo qua un codice molto simile a questo limit uguale 100 pose uguale 0 poi found uguale false while pose minore di length di si chiamava values mettiamoci qualcosa dentro values come esempio come esempio uguale 3 7 21 110 95 5 allora prima copiamo questo codice and not found due punti if values di pose maggiore del limite allora l'ho trovato allora l'ho trovato found uguale true altrimenti incremento passo l'elemento successivo e poi alla fine stamperò if found print l'ho trovato l'ho trovato posizione pose altrimenti print non trovato ok questo è quello che c'è nelle slide e quindi funziona mi dice che ha trovato in posizione 3 indice 0 indice 1 indice 2 indice 3 ok questo è quello giusto io vi faccio due modifiche e così poi mi dite cosa succede cosa succede se facessi così allora questa è una cosa che si vede spesso qui proviamo a ragionarci cosa ho scritto vabbè ho semplificato il while dicendo andiamo fino al fondo dell'array tanto non ci interessa se il valore è maggiore del limite allora l'ho trovato altrimenti se il valore non è maggiore del limite e allora non l'ho trovato e quindi rimetto found a falso ok secondo voi questo cosa vi stampa quindi innanzitutto questo while arriva sempre fino al fondo del del vettore ma questo non dovrebbe essere un grosso problema l'ho trovato o non l'ho trovato se io no se io vado avanti vado fino al fondo del vettore vuol dire che ne cercherò qualcuno in più rispetto a prima voi mi dite che vi scrive non trovato e sono d'accordo che scriva non trovato e come potrei fare per far sì che scrivesse trovato e perché lui possa scrivere trovato dovrei avere l'ultimo numero maggiore di 100 solo l'ultimo conta ok allora cerchiamo di capirlo per chi non l'ha ancora diciamo quel digerito no? bene questo qua questo else found uguale a falso ci rovina tutto l'algoritmo perché found è un booleano che mi deve dire se nella parte di sequenza che ho visto ho trovato almeno un valore che avesse la proprietà che mi serviva ovviamente in questa posizione metterò found a true perché l'ho trovato incremento di una posizione e all'interazione successiva sono a guardare il 95 il 95 è minore di 100 e quindi rende falsa questo limite però il fatto che ho trovato un valore che non è più maggiore di 100 non mi permette di dire che qua non c'è un valore non c'è nessun valore maggiore di 100 cioè dobbiamo sempre fare attenzione che questo flag in questo caso rappresenta un valore che rappresenta il fatto di aver trovato l'elemento in tutto l'array non solamente in questo elemento che sto guardando adesso quindi io mi chiedo senti tu in quanto 95 cosa mi dici? in quanto 95 non mi dice nulla perché mi dice che se non l'avevo trovato finora rimane non trovato se l'avevo già trovato finora il valore maggiore di 100 rimane trovato quindi il found vedendo un 95 non deve essere toccato non deve essere modificato se voi fate l'errore di mettere questo else found uguale false di fatto la variabile found si ricorda o rappresenta solamente più il valore corrispondente all'ultimo elemento che avete visto come qualcuno ha scritto nella chat perché ogni volta che vedo un elemento me ne frego di che cosa ho visto prima e lo rimetto a vero o falso a seconda del valore di quell'elemento poi all'interazione successiva mi dimentico quello di prima e lo rifaccio con l'elemento successivo e così via quindi quello che non va fatto è questo e quindi io questo non so se l'ho già fatto l'analogia con la marmellata se tu ti sporchi le dita di marmellata a un certo momento non è che se poi fai altre cose questa marmellata se ne va rimane quindi alla fine alla fine il founder deve decidere se almeno una volta hai incontrato un elemento che avesse la proprietà di essere maggiore del limite quindi una cosa questi flag qua questo l'uso di queste variabili normalmente parte con un valore vero o falso e poi all'interno di un'elaborazione può prendere il valore opposto ma non ha senso che torni indietro e se torna indietro di fatto si dimentica ciò che hai imparato guardando la parte precedente della lista ok quindi in questo caso dovrebbe funzionare infatti mi dice che l'ha trovato in posizione 6 ah ok in questo caso funziona a metà perché mi dice che l'ho trovato ma in posizione 6 allora ha detto una verità e una falsità la verità è questo trovato ok l'ho trovato perché effettivamente se non ci fosse 110 ci fosse 10 mi direbbe che non l'ha trovato perché il posizione rimane falso cioè il limit il found rimane falso rimettendo 110 giustamente mi dice che l'ho trovato ma per errore lo mette in posizione 6 perché lo mette in posizione 6 ma perché nel frattempo visto che questo ciclo while va avanti fino in fondo la posizione si incrementa e se ho 6 elementi dopo 5 ci sarà 6 quando 6 maggiore o uguale di lang esce dal ciclo quindi questo valore di pos è il valore della posizione finale dopo la fine del ciclo ok l'incremento attenzione a cosa state suggerendo perché vi state un po' incasinando l'incremento pos è già dentro il ciclo rispondo da Andrea poi ci sono un certo numero di persone che vorrebbero dire vabbè sì è vero perché questo found qua lo stai facendo troppo tardi quando ormai il pose si è incrementato allora perché non lo fai qui questo print e l'avete suggerito in più di uno no? non solo adesso ma anche nei messaggi precedenti cosa c'è di sbagliato nel mettere il print qua alla riga 10 che tutto sommato dice beh sono qua ho trovato l'elemento maggiore di 100 cosa devo aspettare lo stampo subito e infatti trovato in posizione 3 sarebbe il messaggio giusto che stampa cosa c'è di male a mettere il print qui di male a mettere il print qui c'è che se per caro ci fossero più elementi maggiore di 100 me li stampa tutti e non solamente il primo io devo guardare gli elementi e poi mi chiedo li ho trovati non abbiamo fretta di stampare la prima cosa che trovo perché altrimenti stamperò trovato trovato non trovato non trovato non trovato no 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 il trovato non trovato lo stampo una volta sola alla fine nel ciclo faccio i calcoli quindi anche a questo punto se ce ne fossero di più lo devo stampare una volta sola il problema è ovviamente ricordarsi quella è la posizione giusta ma il problema è ricordarsi allora io mi sono ricordato se l'ho trovato perché ho usato questa variabile per ricordarmelo ma non mi sono ricordato dove e vabbè basta che io prenda la variabile pose e la fotografi la posizione del found uguale pose e quindi pose vada pure avanti ma io quando ho trovato il valore maggiore del limite me lo ricordo e mi salvo quella posizione quindi rimettiamo il a posto i numerini e vediamo che mi dice trovato in posizione 3 in questo caso quindi riesco a ricordarmi qual era il valore di pose nel momento in cui ho messo found a true poi c'è ancora un problema che io varando se io ce ne fosse se ce ne fosse più di uno questo ciclo che cosa fa e purtroppo si ricorda la posizione guardate dell'ultimo 5 perché se ce ne fosse più di uno dopo che ha visto il primo e ha messo found a true e ha salvato questa posizione qui non fa nulla qui l'elemento è di nuovo maggiore di 100 e quindi rimette found a true che non fa male perché in realtà era già true lo rimette di nuovo a true ma aggiorna questa posizione del found e quindi in realtà questo codice mi trova l'ultimo elemento maggiore di 100 e non il primo allora anche qua per evitare questo problema possiamo o come dice qualcuno rimettere end not found qua nel senso che se found è diventato vero smetto non lo guardo fino in fondo però magari non ci viene in mente no io voglio anche esplorare modi diversi di fare le cose quello con l'end not found ce l'abbiamo già sulle slide come faccio a questo punto sono contento di ciò che fa ma mi trova il primo mi trova l'ultimo anziché il primo come faccio a far sì che mi trovi il primo anziché l'ultimo a me vengono in mente due idee la prima idea è se vogliamo banale ma se lui trova l'ultimo anziché il primo basta che io li guardi al contrario quindi vabbè Mattia mi dice no aspetta Simone mi dice invertiamo la lista o semplicemente esatto il ciclo il poso lo facciamo decrementando anziché incrementando oppure io questo controllo lo faccio solamente se non ho ancora trovato l'elemento posso scrivere così cioè se ho un elemento che è maggiore del limite e non ne ho ancora trovato un altro prima allora me lo salvo voi mi direste ma allora stavano dot no found è meglio se lo metti nel while così esci anche completamente dal while sì però magari questo while deve fare anche altre cose nel frattempo quindi io voglio che magari che arrivi fino al fondo e quindi mi chiedo se il while deve comunque arrivare fino in fondo come faccio io ricordarmi il primo elemento allora un trucco potrebbe essere questo se il valore è maggiore del limite e non è già successo in precedenza che il valore fosse maggiore del limite allora lo salvo questo è un modo chiaramente giusto trovato in posizione 3 l'altro modo è quello di dire vabbè lo faccio così solo se found uguale false not found was found uguale false e poi metto found true cioè prima di mettere found true se per caso era ancora falso found mi salvo la posizione se invece found fosse già stato vero questa if fa sì che l'istruzione 10 non viene eseguita non verrebbe eseguita e quindi non andrei ad aggiornare questo valore ci sono 12.000 varianti possibili il trucco è in qualche modo di impedire di eseguire questa istruzione se è la seconda volta se non è la prima volta che incontra un certo valore diciamo che è soddisfatto la condizione principale la condizione di ricerca su queste cose qua dobbiamo diciamo così essere abbastanza pratici fare sapersela gestire bene facilmente ok io preferirei evitare come dicevate nella chat di usare l'istruzione break si può usare assolutamente se fa parte del linguaggio non vedo perché però in realtà non aggiunge nulla rispetto all'hand not found qua che ti fa uscire prima con una condizione esplicita mettere un break da qualche parte non fa male se uno comincia a mettere tre o quattro in giro vi assicuro che dopo un po' non capisce più qual è la condizione di uscita del ciclo perché si è uscito oppure no quindi sono esercizi semplici che però vi invito proprio a ragionare a provare a modificare a provare a cambiare a capire e a ricostruire da zero questo found uguale false l'ho tirato fuori perché l'ho visto anche recentemente negli esercizi che avete fatto è un errore logico frequente quindi vale la pena di ragionarci per una volta è più facile per assurdo come ragionamento se vi chiedessero dimmi quanti elementi sono maggiori di 100 allora quello non lo sbagliate perché scandite gli elementi se sono maggiori di 100 incremento il contatore mentre invece se vi dicono dimmi se c'è o se non c'è quando c'è da lavorare col flag booleano molto spesso si trovano degli errori rimettere quel flag a falso sarebbe come rimettere qua il contatore a zero ho visto un elemento ma poi quello dopo non è più maggiore di 100 allora rimettiamo a zero no che rimetto a zero quelli che ho visto prima che sono nel counter rimangono devono rimanere oppure se mi chiedono mi chiedono dammi una lista contenente gli elementi maggiori di 100 allora in questo caso non faccio altro che aggiungere a una nuova lista gli elementi della lista precedente solo se questi superano la condizione di ricerca la condizione di confronto e quindi come sempre costruisco una nuova lista mettendoci dentro gli elementi che mi servono anche questo se volete si può fare con la comprehension perché si può fare for e if sempre all'interno della comprehension ma alla fine sono tra righe di codici e non ci spaventano ok diverso è se io devo invece eliminare gli elementi che hanno una certa proprietà in questo esempio ci chiede di eliminare abbiamo una lista di parole di stringhe e di eliminare tutte le stringhe che sono troppo corte che hanno meno di 4 caratteri allora noi abbiamo visto che c'è l'istruzione pop il metodo pop che si può applicare sulla lista che ricordiamocelo elimino un elemento e sposta verso l'altro sposta indietro tutti gli elementi che seguono quindi se faccio il pop dell'elemento 3 lui eliminerà il valore che c'era prima nella posizione 3 prenderà chi era nella 4 lo mette nella 3 chi era nella 5 lo mette nella 4 chi era nella 6 lo mette nella 5 e così via il problema quando vado ad analizzare una lista ed elimino degli elementi e questo è un problema più generale quando voi scandite una lista e modificate la lista mentre la state scandendo mentre la state iterando dovete sempre chiedervi a che punto siete rimasti se io modifico solamente i valori interni di una lista c'è l'incremento di 1 il converting string non cambia niente ma quando aggiungo tolgo degli elementi ho un problema cioè immaginate di avere questa lista che contiene io scrivo solamente la lunghezza una stringa di lunghezza 5 una stringa di lunghezza 6 una stringa di lunghezza 2 una stringa di lunghezza 3 e una stringa di lunghezza 8 9 basta sono stufo allora cosa fa questo algoritmo parte con i uguale 0 va a vedere la prima posizione la 5 ha una lunghezza minore di 4 no va bene andiamo avanti i uguali più 1 posizione i uguale 1 la lunghezza è 6 va bene non è minore di 4 posizione i uguale 2 quindi qui siamo con i uguale 2 lo scrivo la lunghezza è 2 minore di 4 quindi questo elemento deve essere distrutto pop di questo crea una nuova modifica la lista io scrivo sotto quella modificata ovviamente senza più contenere il 2 5 6 3 8 9 non contiene più il 2 adesso però nella posizione i uguale 2 c'è l'elemento che prima era una posizione i uguale 3 quindi dopo che ho cancellato questo elemento giustamente questo codice mi dice attenzione che se lo cancelli non devi più incrementare la i perché per passare all'elemento successivo non sei tu che devi andare avanti è l'elemento che è tornato indietro perché se io facessi un i uguale più 1 sempre incondizionatamente senza avere questo else se non ci fosse questo else io di fatto salterei questo elemento 3 e passerei all'8 vedere l'8 e il 9 e così via quindi quando io modifico una stringa che sto leggendo devo fare molta attenzione se ho aggiunto un elemento se ho raccolto un elemento il valore dell'indice devo aggiornarlo con granosale facendo attenzione a che cosa ho fatto quindi in questo caso i uguali più non mi serve per passare al prossimo elemento ma se ho cancellato un elemento corrente in realtà sul prossimo elemento ci sono già con lo stesso valore di i e infatti all'iterazione successiva lui troverebbe di nuovo che il 3 è minore di 4 e quindi cancellerebbe anche questo 3 all'iterazione successiva mi darebbe 5 6 8 9 una stringa che una lista che contiene solamente più queste 4 stringhe si aggiorna solo se non ho cancellato l'elemento e quindi se la lunghezza era maggiore o uguale a 4 mentre invece se cancello l'elemento per andare avanti non c'è bisogno di incrementare l'indice quindi questo while tra l'altro è una cosa un po' strana perché lui guardiamo la condizione del while può darsi che lì si incrementi cresca di 1 non riesco a fare una freccia che sale oppure darsi che la lunghezza si decrementi cioè se ho trovato l'elemento ho fatto un pop e quindi la lunghezza diminuisce se non ho trovato l'elemento non ho fatto nessun pop ma ho incrementato la i e quindi questo i che parte da 0 la lunghezza che parte da 5, 6, 8 uno si incrementa l'altro si può decrementare prima o poi si incontrano e chiaramente questa condizione del while diventa falsa io posso uscire dal while quando ho finito quindi per questo è importante in questo caso usare un while e non usare un for range perché il range viene calcolato una volta solo all'inizio e quello è fisso invece qui noi abbiamo una lunghezza di una lista che cambia dinamicamente dentro il ciclo questo modo di lavorare è un po' pericoloso nel senso che bisogna fare molta attenzione quindi molto spesso se devo fare operazioni di questo genere tante volte conviene per sicurezza facciamolo in modo diverso creiamo una nuova lista che contiene solo gli elementi che non soddisfano la condizione solo gli elementi maggiori di 4 siamo sicuri creo analizzo una lista e ne creo una diversa senza stare a cercare di modificare la stessa lista mentre la sto attraversando allora in quel caso non ho più nessun problema avrei semplicemente un ciclo in cui faccio append delle parole che hanno lunghezza maggiore o uguale a 4 e quelle che hanno lunghezza minore di 4 semplicemente non le appendo quindi nella lista che creo non avrò nessun valore di quelli che non volevo quindi anziché cancellarli non li creo in una lista vittoria ci chiede se salvassimo i valori di eliminare per poi eliminare successivamente anche ma mi sembra più complicato che non salvare quelli che voglio ottenere piuttosto che salvare quelli che voglio poi cancellare quindi però l'idea è la stessa mi salvo in una lista degli elementi e poi dopo scaldirò questa seconda lista per andare a fare delle remove dalla lista di partenza sarebbe forse meglio salvarsi la posizione degli elementi da eliminare ma poi dopo che è eliminato il primo la posizione del secondo è cambiata quindi si può fare ma è più complesso se riusciamo sempre a trovare la soluzione più semplice ovviamente ci aiutiamo l'altra operazione che si fa molto spesso che serve a fare molto spesso è scambiare degli elementi quindi immaginiamo di avere una lista che contiene gli elementi 1 3 7 5 e ci dicono scambiate di loro il 3 col 7 per qualche motivo scambiare di posto questo in realtà non è un problema specifico delle liste però se noi vogliamo fare anche sulle variabili semplici noi non possiamo scrivere ovviamente valore di 1 uguale valore di 2 e valore di 2 uguale valore di 1 per scambiare tra di loro questo è quello che vorremmo ottenere purtroppo queste due istruzioni non fanno questo perché se io scrivo valore di 1 uguale valore di 2 sì ho messo il 7 al posto del 3 ma mi sono perso il 3 per sempre ok perché l'ho sovrascritto con il 7 quindi quando poi facessi valore di 2 uguale a valore di 1 la seconda istruzione prenderei questo qua che non è più un 3 ma è un 7 è diventato un 7 e lo rimetterei sopra quell'altra cella che già di nuovo continua a essere 7 quindi non me li scambio ma perché perché perdo uno dei valori allora il metodo classico è quello di usare una variabile temporanea t in cui mi salvo v di 1 prima di sovrascriverlo e poi quando devo scrivere v di 2 uso la variabile temporanea t quindi per scambiare due valori devo sempre fare un passo da una variabile intermedia in cui salvo il primo sposto il secondo nel primo e poi al posto del secondo ci metto la copia salvata del primo quindi questa tripletta di istruzioni diciamo che serve per fare uno scambio di variabili e beh qui c'è l'esempio fatto diciamo così con i disegnini di ciò che abbiamo scritto in realtà in Python esiste anche una scorciatoia che prevede di che permette di fare più assegnazioni in un'unica istruzione in parallelo in certo senso si usa una sintassi che è la sintassi delle tuple vedremo tra qualcosa di più tra qualche mezz'ora che di fatto sono una sorta di liste che possono contenere più elementi è possibile costruire delle tuple la differenza tra le tuple liste sono due una che usano le parentesi tonde e l'altra che sono immutabili quindi una volta che l'ho costruita non la posso più modificare ma qui non sto usando la tupla in quanto struttura dati lo sto usando solamente come trucco per assegnare più valori in generale in Python se io scrivo una cosa di questo genere AB uguale 3 e 4 sto assegnando una tupla che è composta dalle variabili A e B una tupla che è composta dai valori 3 e 4 e quindi ciò che succede è che il 3 viene messo dentro la A e il 4 viene messo dentro la B quindi scrivere AB uguale 3 e 4 con la virgola è equivalente a fare A uguale 3 e B uguale 4 come passo ulteriore se per caso scrivessi A uguale B e B uguale A prenderei il valore di B e lo metterei dentro A e contemporaneamente il valore di A e lo metterei dentro il B vedete che l'uguaglianza viene eseguita una volta sola quindi non viene copiato prima il primo valore e poi il secondo non posso dire che fa B uguale A A uguale B non esegue prima B uguale A e dopo A uguale B perché altrimenti non funzionerebbe ci sarebbe il problema di prima che sovrascrivo un valore vecchio prima di usarlo ma li esegui contemporaneamente e quindi nella pratica scambia tra di loro i valori e questa sintassi la posso usare anche per scambiare eventualmente dei valori in un array quindi una coppia di celle o la cella di indice 1 e di indice 3 assume contemporaneamente due valori che sono presi dalle stesse due celle ma prese in ordine diverso e quindi di fatto sto scambiando in un'unica istruzione anziché in tre istruzioni i valori di due celle quindi questa è di nuovo qua l'ho chiamata scorciatoia ovviamente perché non è nulla di nuovo lo sappiamo già fare basta fare lo scambio a tre variabili a tre istruzioni però se ci ricordiamo magari riusciamo a fare in un'istruzione sola Matteo ciò che mi chiedi se non erro è un errore di sintassi perché sto cercando di assegnare a tre valori una tubla che ne contiene solamente due però se non se per sicurezza la possiamo anche verificare tu volevi fare allora noi sappiamo che se io faccio A virgola B uguale 3,4 vedete che mi crea A uguale 3 e B uguale 4 Matteo che non sia contento delle cose semplici vuole fare A, B, C uguale 3,4 e lui mi dice senti caro ti voglio tanto bene però alla variabile C non so proprio cosa metterti non ho abbastanza valori da spacchettare e mettere nelle singole variabili quindi mi serve ovviamente il numero di valori uguale al numero di variabili questo appunto sempre a livello di scorciatoia questo è un altro esempio su questo non mi soffermo molto la lettura in ingresso da tastiera di una lista in questo caso di una lista di numeri non è molto diversa c'è sempre questo stesso schema inizio lì da una lista vuota e ci aggiungo dei valori poi questi valori possono essere i valori che ho letto da tastiera i valori che sto generando con un calcolo i valori che erano presenti in un'altra lista che rispettavano un qualche criterio la trasformazione del numero a string o viceversa di un valore che avevo già cambia l'operazione che ci faccio ma il modo in cui la faccio praticamente è sempre lo stesso lo schema mentale il pattern mentale è sempre lo stesso mi chiede mi chiede se posso per acquisire un'intera lista posso scrivere input split sì che potrei farlo in questo caso sarebbe questa lista qua sarebbe allora lo scrivo qua e poi confrontiamo tu mi stai chiedendo se io posso se io scrivessi lista uguale input punto split cosa succede? allora questo funziona funziona però sotto certe condizioni cioè lui fa una certa cosa dobbiamo chiederci se questa istruzione fa ciò che serve a noi questa mi dà una lista di stringhe stringhe mentre magari ad esempio in questo esempio io stavo facendo una lista di numeri float in point quindi non è proprio quello che volevo e poi separati tra spazio mentre invece in questa input li leggevo uno per uno uno per riga se la modalità di input è libera allora posso scegliere di farla tutti su una riga oppure uno per riga in questo caso con la split sono obbligato ad avere tutti su un'unica riga e terminate l'inserimento termina alla fine della linea mentre invece in questo esercizio questo esempio terminava quando l'utente inseriva una Q quindi continua a valere il ragionamento che facciamo a cui abbiamo dedicato quest'ora c'è una forma sintetica un'istruzione sola che è già in libreria standard e fa una certa operazione può darsi che l'operazione mi vada bene può darsi che invece non mi vada bene perché il mio requisito era di leggere un dato per riga e inserendo la Q e tu mi dici no ma non io non le leggo uno per riga le leggo tutte nella stessa riga e non hai fatto la cosa giusta perché non era esattamente ciò che era richiesto e se mi chiedeva in termina quando inserisci la Q allora ci vuole la Q per terminare non l'invio e così via e soprattutto alla fine questa è una lista di reali di numeri reali e terminata con Q e non è una lista di stringhe poi tutto si può adattare però facciamo attenzione se ritroviamo una condizione in cui possiamo usare in tutto e in parte la funzione di libreria bene ci semplificiamo la vita ma dobbiamo sempre essere capaci anche a fare la versione diciamo così a mano a basso livello un'istruzione per volta perché magari abbiamo delle esigenze che sono leggermente diverse su questo la cosa più importante secondo me era il fatto che saltavano fuori stringhe e non flotte quindi devo poi convertire se avessi convertito in stringa user input dunque non ho capito se avessi convertito in stringa user input era qua user input è già una stringa user input è una stringa perché questa qua stiamo parlando di questa riga Daria è già una stringa perché l'input mi restituisce sempre una stringa una stringa che contiene in questo caso un numero solo perché l'utente ha inserito un numero solo quindi la stringa fatta dai caratteri 3 e 2 è una stringa infatti poi vedete che lui confronta questa stringa con un'altra stringa user input diverso da q e poi solo se non è uguale a q allora la converto in flotte e lo aggiungi alla lista dei valori quindi in questo caso user input è già stringa e a volte lo voglio convertire in flotte perché mi serviva una lista di flotte in questo caso e non una lista di string poi qua questo l'abbiamo già visto semplicemente il catalogo delle funzioni principali ricordiamoci che per cancellare ci sono questi due pop e remove con la differenza che pop conosce la posizione in cui bisogna cancellare l'elemento remove invece il valore e quindi va lui a cercarsi la posizione in cui si trova ok allora proviamo a fare vediamo un attimo quanto tempo abbiamo proviamo a fare un esercizietto da questi ma facendocelo non seguendo le list non seguendo le slide ricordando e provando a usare anche le funzioni ricordando quello che abbiamo detto la volta scorsa usare una funzione che riceve una lista o una stringa non è un problema si può fare tranquillamente col solito meccanismo di dichiarare un parametro e passare un argomento di tipo lista e all'interno della funzione io ho accesso tranquillamente a questa lista agli elementi di questa lista e gli elementi di questa lista possono essere modificati quindi dall'interno di una funzione io posso modificare il valore della lista originaria che è stata passata come parametro dal chiamante questo l'avevamo già discusso la volta scorsa l'avevamo capito perché in realtà quando io passo un parametro a una funzione passo un argomento come parametro di una funzione sto creando un alias ok un sinonimo di un dato che esisteva già quindi fin tanto che non rompo l'alias quindi non faccio delle istruzioni che vanno a cambiare i valori di questa variabile ma vanno solamente a cambiare i valori contenuti nella lista io sto modificando a tutti gli effetti la lista di partenza ok qui c'era l'esempio che avevo questa funzione multiply che aveva un parametro values che è qua quindi qui ho il main e qui ho la mia funzione multiply quando io nel main costruisco una variabile che qui veniva chiamata scorso con dei valori dentro poi chiamo la funzione multiply passando come argomento il valore di questo scorso allora si crea abbiamo già visto anche i disegnini la volta scorsa non sulle slide ma avevamo fatti a parte ma la semantica è la stessa costruisco quando chiamo questa funzione l'argomento scorso è già la lista che avevo creato inizializzo il parametro values come alias dell'argomento scorso quindi è come se scrivessi quando chiamo la funzione values uguale scorso dove scorso è la variabile nel main values è la variabile nella funzione io questa istruzione qua nella realtà non la posso mai scrivere perché il main non vede le variabili della funzione e la funzione non vede le variabili del main quindi non potrò mai scrivere quell'istruzione lì esplicitamente come l'ho scritta perché quelle due variabili non saranno mai entrambe vive visibili contemporaneamente però è ciò che succede quando faccio la chiamata alla funzione poi succede anche un'altra cosa nel senso che qua la funzione aveva un secondo parametro che era factor è stata chiamata con valore 10 quindi succede anche factor uguale a 10 però factor uguale a 10 ci preoccupa di meno perché lì c'è una costante tra l'altro è un numero non è modificabile non ci posso fare nulla l'attenzione la devo fare quando io sto passando come argomento una lista che è modificabile quindi mi devo chiedere ma allora poi la funzione la potrà modificare sì la potrà modificare perché questa istruzione di chiamata della funzione corrisponde a inizializzare il parametro col valore dell'argomento creando quindi un alias cioè due variabili diverse che fanno riferimento alla stessa lista non una lista uguale alla stessa lista e questo è il motivo per cui dalla la funzione posso tranquillamente modificare i valori vedete che qua modifico valiosd sostituendo lo sostituisco con qualche cos'altro e quindi arriverò attraverso la variabile valios a modificare questo valore ma il main quando andrà a vedere si troverà lo stesso valore modificato perché in realtà guardando la lista passando attraverso valios o guardare la lista passando attraverso scorse sempre quella è la lista non cambia nulla e questo è ciò che avevamo diciamo così riassunto condensato in questa slide qua ricordiamoci quando io sono in una funzione posso fare tutte le operazioni di di modifica eventualmente della lista quindi ho raccontato alcune ma devo fare attenzione a non cambiare mai il valore del parametro e questo lo vediamo con questo segno di uguale che in fatto modificherebbe il valore del parametro separando a questo punto da quel momento in avanti valios non è più un alias di scorse il parametro non è più un alias dell'argomento e quindi da quel momento in avanti non sto più modificando l'argomento di partenza non solo fare questa attenzione qua quindi ricordarsi queste due cose uno che normalmente quando io ricevo una lista in una funzione la posso modificare e due non usare mai un uguale sul parametro non riassegnare mai il valore del parametro perché altrimenti perdo il collegamento con l'argomento in questi giorni precedenti ho visto non parlavamo ancora di liste parlavamo di variabili semplici ma ho visto alcune persone che nel definire la funzione poi andavano a modificare l'argomento che avevano ricevuto perché è una variabile normale e Python te la lascia modificare ecco non prendiamo questa abitudine se ci serve una piuttosto creiamo una variabile in più all'interno della funzione ma non prendiamo l'abitudine di non modificare mai il parametro che riceviamo nella funzione così almeno siamo sicuri che all'interno della funzione quel valore è sempre uguale a ciò che arrivava dalla funzione chiamante questo è un elemento un po' di complessità proviamo a fare almeno impostare un primo algoritmo qui c'è questa sezione che viene chiamata adattamento di algoritmi che sta a dire guarda che noi abbiamo visto gli argomini di base il massimo il minimo la somma bla 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 ma poi alla fine non ti capirà mai un problema esattamente identico a calcolare il massimo dovremo si trovare dei problemi che in qualche modo somigliano e quindi abituarci un pochino a modificare adattare ciò che già sappiamo a ciò che in realtà dobbiamo fare ad esempio qua ci dice hai preso dei voti che sono questi qua sotto devi calcolare il punteggio finale che è definito come somma di tutti i risultati escluso il più basso escluso il risultato più basso quindi io ci sono due cose che già conosco io se tu mi chiedi qual è il voto più basso io te lo so dire il calcolo del minimo è il 5 se tu mi chiedi qual è la somma dei voti io te lo so dire 8 più 7 più 8 5 più 9 5 più 7 più 5 più 10 li sommo tutti con una somma ad esempio oppure con un ciclo però quello che mi stai chiedendo è una combinazione dei due come posso aspetta mi interrompo un attimo questa domanda di di Luigi che mi chiede se nella prima istruzione c'era un uguale dove qui scusate è giusto riprenderlo qui c'era un uguale ma come vedevi non veniva assegnata la variabile parametro bensì veniva assegnato un elemento contenuto nella lista a cui la variabile parametro fa riferimento quindi questo lo posso fare posso andare a modificare i dati contenuti nella lista non posso modificare la variabile parametro in quanto tale ok scusate torniamo qua ma era giusto allora ci sono cento modi di farla questa questa operazione qua qualcuno mi sta dicendo faccio la somma poi cerco il minimo e lo sottrago quindi faccio la somma di tutti poi calcolo il minimo e lo sottrago va bene è un modo è un algodino possibile Alessio mi dice faccio l'ordinamento faccio il sort e tolgo il primo elemento un altro un'altra possibilità Andrea mi sta dicendo faccio il minimo e poi faccio il pop dell'elemento dove ho trovato il minimo che è un altro un'altra possibilità ancora quindi ce ne sono molte diverse proviamo a vederne alcune allora prendiamo facciamo un nuovo file che si chiamerà voti quiz dove mettiamo i voti come un array 8 7 8 5 9 5 8 7 8 7 8 5 9 5 7 5 10 7 5 10 ok allora qualcuno mi dice fai la somma fai la somma fai la somma di tutti e sottrai il minimo quindi io farei una cosa di questo genere print sum di voti meno min di voti e mi da il 50 che è il valore che che dovevo aspettarmi questo funziona funziona sempre quando è che funziona attenzione funziona solo se il voto minimo non è ripetuto altrimenti beh il testo non ci dice cosa dobbiamo fare se il 5 fosse presente due volte se il 5 fosse presente due volte cosa dovrei fare non lo so il testo non è chiaro allora in questo con questa possibile implementazione se il 5 è presente due volte lui lo toglie una volta sola quindi il secondo 5 conta nella media nel punteggio ha tolto solamente uno dei due se volessimo toglierli tutti questo meccanismo non funzionerebbe chiaramente ci vorrebbe qualche cosa di più dovrei contare quante volte compare il minimo e sottare un certo numero di volte quindi questo è però è una delle possibilità se ovviamente è valida questa condizione che noi non conosciamo nel testo purtroppo è scritto in modo molto semplice dopo aver escluso il più basso il fatto di avere il più basso al singolare mi fa pensare che sia solo un voto e quindi abbia senso no allora diciamo così se il voto minimo è ripetuto lo toglie una volta sola poi le altre è una possibilità se invece dovessi togliere più di una volta questo non funziona devo trovare un'altra su devo trovarne un'altra allora andiamo a vedere le altre cose che avete suggerito fare sorte e togliere il primo elemento sì quindi potrei creare una ordinare la lista e poi tolgo il primo elemento quindi voti punto pop di zero e poi a questo punto stampo la somma di voti e in questo caso fa di nuovo 55 funziona esattamente nello stesso elemento nello stesso modo quindi faccio metto qua il commento che avete scritto nella chat questo che che difetto ha ha un difetto che ho distrutto il voti perché per fare questa operazione qui a questo punto la variabile voti non contiene più i valori di partenza ma contiene i valori riordinati in cui ne ho tolto uno quindi non è detto che mi piaccia magari io converrebbe farlo su una copia fatto su voti due ok e quindi questo punto l'ho fatto però modificando voti due così alla fine i voti sono ancora quelli ordinari non li ho modificati senza che vi sto ingannando io ho fatto questo voti due per dire non voglio modificare la lista voti e quindi faccio voti due poi lo ordino poi lo elimino eccetera eccetera però ho verificato che alla riga 13 se faccio print voti in realtà non mi stampa quelli di partenza ma mi stampa quelli modificati dov'è l'errore l'errore sta qui perché scrivendo voti due uguale a voti non faccio non sto facendo una copia ma sto facendo un alias ok quindi voti due non è altro che un sinonimo di voti quindi non serve a niente devo costruire una vera copia un'altra lista che contiene gli stessi voti allora se faccio così ovviamente il risultato 55 è rimasto ma anche la lista voti non è stata modificata quindi ricordateci sempre quando pensate faccio una copia della lista sempre fare la copia esplicitamente si può scrivere così si può scrivere oppure voti così e comunque è una slice una porzione che contiene dal primo all'ultimo elemento ma diciamo così è molto più esplicito è molto più leggibile quindi questo è secondo il secondo modo anche questo funziona nello stesso modo nel senso che se il voto minimo è ripetuto non è ripetuto lo toglie una volta sola poi altri c'erano altre proposte andiamo un po' a vedere in e pop sorte proprio il primo allora minimo e pop non si combinano tra di loro piuttosto dovrei fare il remove del minimo allora vediamo un po' a vedere se io calcolassi il minimo potrei prendere dai voti non posso fare pop perché non so dov'è il minimo però potrei fare remove perché so qual è il valore ricordiamoci che la funzione remove rimuove la prima occorrenza di un valore quindi rimuove il minimo e a questo punto poi stampo la somma print sum di voti pensate a questo qua di nuovo non va bene perché mi modifica voti poi lo sistemiamo quindi questa è l'altra possibilità cerco il minimo lo rimuovo dalla lista e poi faccio la somma e comunque continua a essere sempre 55 ovviamente perché facciamo sempre la stessa cosa ovviamente qua di nuovo questo voti.remove va a cancellare un elemento alla lista di partenza quindi se vogliamo dovremmo farlo su una copia voti 2 uguale list di voti e poi lavorare sempre con voti 2 in modo da avere i voti non modificati ok sì forse è meglio se non la chiamo min perché se no si confonde con la funzione che si chiama anch'essa min chiamiamola minvoti poi non si potrebbe fare una sorta allora Emanuele ci dice contare quante volte ho il primo elemento ripetuto oppure Gabriele che mi dice contiamo quante volte compare il minimo se vogliamo invece tenere conto se vogliamo rimuovere più volte il valore minimo sì quindi in qualche modo quindi diciamo se invece volessimo rimuovere più volte il minimo tutte le volte allora cosa faremmo dovremmo innanzitutto a contare come faccio a contare quante volte devo sapere conta quante volte compare il minimo e questo ce lo dobbiamo fare a mano non c'è nessuna funzione che ci dica questo già diciamo così con un'unica chiamata e quindi dovremmo calcolarci il minimo e poi dovremmo contare quante volte compare facendo un ciclo for i in voti for x in voti if x uguale min voti conta uguale a più 1 e a questo punto farò la somma di voti meno il voto minimo anche min voti moltiplicato per il numero di voti in cui l'ho trovato giusto vediamo un po' cosa viene giusto dovrebbe venire 50 esatto e non 55 voti state qualcuno di voi sta suggerendo di usare count non mi ricordavo voti punto count cosa fa ah sì ritorna il numero di sì si poteva anche usare voti punto count quindi in realtà questo conta sarebbe non mi ricordavo la funzione come vedete non mi sono scompigliato nel senso che potevo anche scrivere conta vale voti punto count di min in questo caso c'è la funzione count non mi ricordavo come la sono implementata ma non è un grosso problema la versione che ha scritto Cristian va anche bene che è questa scusate devo fare copia e incolla calcola il minimo e poi fai remove più volte sempre del valore minimo fino a quando questo valore è contenuto nella lista count non no count dovrebbe funzionare sempre qualcuno mi dice count funziona solamente con le liste con le stringhe no no parla di qualunque tipo di valore e così via insomma qui voi quello che avete cercato di fare anche un po' abbiamo cercato di fare di riusare le funzioni che già conoscevamo qui lo commento perché avete i nomi variabili leggermente diversi però si potrebbe anche ricordiamoci che se non ci ricordassimo min non ci ricordassimo max o sum o count lo possiamo sempre ricostruire facendo dei cicli al nostro interno ok sulle slide viene questo problema viene affrontato cercando di prima trovare la posizione del minimo in questo caso era il 4 non so perché i numeri li ha cambiati dall'esempio così e poi una volta trovata la posizione del minimo lo rimuove della lista e calcola la somma che è una delle soluzioni che abbiamo trovato dove la posizione del minimo viene calcolata adattando chiaramente l'algoritmo che calcola il minimo per ricordarsi anziché il valore del minimo anche soprattutto la sua posizione quindi esempio questo codice qui mi dice dove è il minimo non mi dice quanto vale poi ovviamente se so dove è so anche quanto vale vedete la differenza questo codice sopra è il codice della funzione calcola il minimo l'abbiamo già visto prima prende il più piccolo e ogni valore che è minore del più piccolo aggiorna l'ipotesi corrente del più piccolo però alla fine so che il piccolo vale 5 ma non so dov'è e quindi mi serve poi un remove che lo vado a cercare in questo caso invece io mi salvo la posizione in cui penso che sia il minimo cara 3 posizione 0 e poi in tutte le altre posizioni mi chiedo se il valore in questa posizione fosse più piccolo del valore della posizione in cui penso che sia il minimo e se è più piccolo allora aggiorno la mia ipotesi dicendo vabbè allora non penso più che il minimo possa essere nella posizione 0 ma penserò che il minimo da le scena avanti potrà essere nella posizione i perché è un'approssimazione migliore quindi anche qua ho modificato leggermente per fare in modo che alla fine di queste tre istruzioni io avessi in mano non il valore del minimo ma la posizione in cui si trova il minimo e poi posso dargli posso cancellare la lista ridurla eccetera eccetera e se adesso qualcuno mi dicesse esclusi i due più bassi allora basterà ripetere quello che abbiamo fatto due volte ovviamente magari conviene organizzare il codice con funzioni in modo che io avrò una funzione che mi calcolo la posizione del minimo l'altra funzione che mi elimina un certo valore dalla lista e così via in modo da poter poi riusare questo che abbiamo scoperto per dire calcolo la posizione del minimo riusarlo più volte con più liste diverse quando ci serve ok qui siamo diciamo così all'orario giusto per aver terminato l'esercizio e fatto una e poter fare una piccola pausa rispondo solo a Filippo che mi chiede come faccio a commentare in blocco o scommentare in blocco una parte di codice uso control più slash e questo fatto su una riga mette o toglie un commento su quella riga per tastiera così come shift tab della limina no scusa forse era anche Filippo mi dice nelle slide c'è scritto che canone istruisce il numero di correnze non sovrapposto in determinata sottostringa dunque ricordate che le slide non sono la verità però è diverso se count lo applichiamo a una stringa o se count lo applichiamo invece a una una lista con due realtà metodi diversi count non me lo mette qua quindi sul qui non me lo trovo nella documentazione ma me lo cerco con calma all'intervallo così leggiamo insieme item list punto count ad esempio questo qua mi dice l'oggetto da contare conta quante volte quell'oggetto compare nella lista e quindi questa lista a questo punto può essere di numeri può essere di stringhe e funziona mentre invece il count delle stringhe funziona in modo più esteso perché se il count di una stringa passa un singolo carattere mi conta quante volte è presente quel carattere ma se gli passo una sottostringa mi conta quante volte è presente quella sottostringa quindi in quel caso il metodo count sulle stringhe che sono un tipo di liste alla fine sono più di sequenze è più furbo rispetto al al metodo count di una lista che invece prende un singolo elemento quindi ha un significato leggermente diverso va bene vi avevo promesso di fare un po' di pausa e quindi sono le 11.35 diciamo ci possiamo rivedere alle 11.50 e così proviamo a fare un passo più avanti andando a vedere le tabelle quindi le liste annidate all'interno di altre liste ok quindi 15 minuti di pausa e ci rivediamo dopo e ci rivediamo